In Abruzzo la campagna vaccinale è andata avanti anche a Pasqua e Pasquetta, seppur a ritmi ridotti, visto che non tutti i siti di somministrazione sono rimasti aperti. Oggi però è ripresa a pieno ritmo con l'arrivo previsto in giornata di oltre 38.000 dosi da parte di Pfizer, consegna molto attesa per incrementare le somministrazioni. In provincia di Teramo sono stati somministrati quasi 2.000 vaccini, durante la doppia giornata festiva sono scesi in campo quasi esclusivamente il personale volontario, a cominciare dai big dell'azienda sanitaria, i componenti sia della direzione strategica che della direzione di presidio, che hanno formato diverse squadre vaccinali. Noi non ci siamo fermati perché era un dovere vaccinale, un dovere morale verso i cittadini che si aspettano appunto che questo adempimento venga fatto il più presto possibile e che ci consente anche di uscire il più presto possibile da questa situazione, da questa pandemia. E noi ci stiamo organizzando la nostra macchina, la stiamo perfezionando in maniera tale che se arriveranno i vaccini nel mese di aprile riusciremo a compiere un buon lavoro su tutto il territorio provinciale. Aprile segnerà un cambio di passo ma segnerà un cambio di passo anche i mesi di maggio e giugno perché la popolazione da vaccinare è tante e quindi dobbiamo correre e percorrere, ci vogliono sia l'organizzazione di tutto il personale necessario per fare le vaccinazioni e questo il fatto che siano intervenuti anche i medici in base rafforza l'organismo vaccinale e dopodiché ecco è importante il fatto che arrivino i vaccini però è perché è inutile che si organizzano le postazioni se dopo non c'è la materia prima che il vaccino. Quello è fondamentale, tutto quello che serve per far sì che in breve tempo riusciremo a fare tutto quello che bisogna fare per vaccinare la gente.